Maciniamo chilometri! Dal Piemonte alla vicina Benevento, l'Avellino e i suoi tifosi quest'anno saranno impegnati lunghi viaggi, on the road con l'Irpinia nel sangue. Nella stagione 24-25 ci saranno infatti trasferte lunghe che superano anche 500 km, come quelle in Sicilia, Catania, Messina e Trapani. Saranno macinati i classici chilometri di passione, una canzone della Curva Sud recitava Maciniamo chilometri, superiamo gli ostacoli con il lupo in fondo al cuore. E sarà così anche per la prossima stagione. L'inclusione della Juventus Next Gen, leggerone C, penalizza società e tifosi non solo per la lunga trasferta, ma anche perché quella di Capobasto nell'eventualità era molto più vicina. 18 in tutto le trasferte per i tifosi biancoverdi, 6 i derby campani contro Casertana, Cavese, Benevento, Giuliano, Sorrento e Laturris. 5 partite si giocheranno in Puglia, a Monopoli, a Foggia, a Cirignola, a Taranto e a Bari, casa del team Altamura. Tre gare in Sicilia, Catania, Messina e Trapani, tre in Basilicata, Potenza e Picerno più il Sorrento che giocherà nuovamente al Viviani. Una in Calabria a Crotone e una nell'altro a Francione di Latina. La trasferta più lunga è certamente quella di Biella, attuale casa della Juventus Next Gen.